Emilia Romagna ha giudicati 7,7 milioni per la ricerca. Il valore della ricerca, il merito di un sistema regionale capace di metterla al centro a partire dalla sanità. L'Emilia Romagna si aggiudica oltre 7,7 milioni di finanziamenti statali, piazzandosi al secondo posto tra le regioni italiane, dopo il Veneto, per numero di progetti finanziati nel 2019. Di fondamentale importanza gli ambiti degli studi proposti. Dieci riguardano la ricerca biomedica innovativa, quindi legata all'acquisizione di nuove conoscenze e nove sono mirati allo studio di nuove strategie clinico-assistenziali e organizzative. A stilare e pubblicare la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento il Ministero della Salute, dopo aver concluso l'iter del bando di ricerca finalizzato 2019. Dei 19 complessivamente studi finanziati alla regione Emilia Romagna, 8 ottengono risorse per quasi 3 milioni di euro. Agli altri 11 presentati dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico vanno oltre 4,7 milioni. I ricercatori emiliano-romagnoli, che lavoreranno allo sviluppo dei progetti, afferiscono alle aziende ospedaliere universitarie di Bologna 900 mila euro, Modena, Ferrara e Policlinico Sant'Orsola. Complimenti alle nostre aziende ospedaliere universitarie che hanno raggiunto questo importante risultato, di cui siamo orgogliosi, sottolinea l'assessore regionale alle politiche per la salute Raffaele Donini. È un riconoscimento che rende merito al servizio sanitario dell'Emilia Romagna e alla capacità di fare sistema e soprattutto premio il lavoro dei ricercatori e delle ricercatrici della cui importanza oggi più che mai siamo tutti pienamente consapevoli. Numerose le discipline interessate dai progetti dell'Emilia Romagna per l'ambito avanzamento delle conoscenze oncologia, tre progetti, ortopedia 2, matologia e immunologia 2, dermatologia, neurologia, psichiatria e geriatria. Un progetto in ciascun ambito per il settore clinico assistenziale e organizzativo. I progetti vincitori sono mirati allo studio di nuove strategie nell'ambito della neurologia e psichiatria 3, diagnostica 2, malattie infettive 1, cardiologia, pneumologia 1, riabilitazione 1, ortopedia 1. A livello nazionale sono stati erogati 100 milioni destinati a finanziare complessivamente 211 progetti di ricerca, 7 progetti di ricerca cofinanziati, 38 borse di studio under 33 e due programmi di rete confinati dalla regione, cioè considerati altamente innovativi e con un elevato impatto sul Servizio Sanitario Nazionale, oltre a un progetto di ricerca sulla fibromialgia che ha visto coinvolte tutte le regioni con il coordinamento della Liguria.